Amici di Milan.soccer, buongiorno, buongiorno, anzi per noi è un buongiorno, per voi è quasi una buona sera perché qui a Las Vegas sono 9 ore, 9 ore, 9 ore di ritardo, quindi per noi sono le ore 7.25 di mattino e quindi voi più o meno in Italia siete 9.16.30, pomeriggio, buon pomeriggio allora, ci stiamo per preparare comunque per vedere ancora un pezzo di Serie A, quindi siamo anche noi sul pezzo e quindi vedremo la partita della seconda squadra di Milano, quindi vedremo che cosa succederà in questa un po' pazza classifica. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi qui sotto al canale, iscrivetevi numerosi, è gratuito, tutto gratuito per cui abbiamo bisogno di farvi entrare in questo club, un club virtuale, ci sono tante persone che scrivono commenti, alcune mi sono già diventate amiche, riconosco i loro loghi, ma a settembre inizierà un format particolare, si chiama Mettici la Faccia, anche voi potrete mettere la faccia sul nostro vostro canale e questo poi accadrà nei modi che vi diremo. E allora parliamo di Milan, 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 ci sono buone notizie, partiamo già dal fatto che ci sono buone notizie. L'incontro Taremi-Milan è un incontro che avverrà questa sera a cena, poi domani ci sarà un incontro ufficiale, quindi il primo ufficioso, il secondo ufficiale ed è Taremi l'attaccante del Milan. Ci sono tutte le condizioni per poter chiudere la trattativa. Una trattativa che ci tengo a dire, è una trattativa che ha... sto cercando le parole giuste. A proposito di parole giuste, qualcuno mi ha scritto che PSG Paris Saint-Germain si pronuncia Paris Saint-Germain, Saint-Germain, oppure un'altra Olivier Giroud. Allora, c'è una differenza tra il francese scolastico e il francese di strada, dopo tanti anni vissuti a Parigi e con amici della curva di PSG che loro chiamano PES, per cui la strada è un'altra cosa, vivere la strada, vivere il linguaggio vero dei parigini e dunque dei francesi, così come, ad esempio, la prima volta che mi salutarono non dissero come io avevo studiato garçon o messier, ma dissero all'Elemmec, per cui pensate quanto è difficile, no? O anche, ad esempio, il PSG, come detto, dicono PES, bonjour, dicono jourbon, non bonjour, ma jourbon, chiusa la lezione di francese, era dovuta dopo tanti anni a Parigi, vissuti. Il Milan non mi ha fatto una buona impressione, la società, sull'attaccante, devo essere sincero, perché se dall'inizio avessero detto, no, noi non partecipiamo a quelle aste, per intenderci stile Dybala, ed è anche stata un'idea di Paolo Maldini, non partecipare a quei big, ormai non più big, che possono portare merchandising, ma poi di fatto non portano più di tanto, guardate Dybala, dai, gliel'hanno dato rotto, diciamocelo francamente. Lukaku non lo so, qualcuno si è saltato troppo per la possibilità di arrivare, a me sarebbe piaciuto perché è uno che la mette dentro, ma in prospettiva bisognerà vedere, perché rischiamo di diventare più un ospizio, che è una squadra di calcio, con tutto l'amore per gli ospizi dove io ho il cuore. Però, anche se io preferirei i genitori in casa, saluto la mamma, quando vuoi. Detto questo, se il Milan fin dall'inizio avesse detto, no, noi vogliamo un giocatore nuovo, noi vogliamo un giocatore per rifare un Milan nuovo, a me sta bene, perché se andate a vedere, di fatto abbiamo comprato giocatori e non abbiamo nessun nome altisonante, al di là della partecipazione alla Premier League. Allora avrebbe dovuto chiudere un po' prima, voi mi dite, sì, però così ha abbassato il prezzo, e mica tanto l'ha abbassato il prezzo, no, non l'ha abbassato il prezzo, sì, il porto è sceso di qualche euro, perché per loro è qualche euro, però oggettivamente la preparazione ha un valore anche economico, perché un mese dopo una preparazione che arriva con un mese di ritardo, rischiede di avere un giocatore pronto, sì, ma fra un mese, vabbè, comunque sono piccoli dettagli. Il fatto che comunque la società arrivi più o meno a quanto, a 48 ore, a 60 ore, dalla fine del calciomercato, senza sapere ancora di fatto chi sarà il proprio attaccante, io qualche così, qualche tirata d'orecchio mi sento di farla, però bene così, comunque Taremi sarà per una buona percentuale, visto che questo è il calcio scommesso, calcio mercato, visto che c'è stata una notizia di calcio scommesso in Inghilterra, calcio mercato delle beffe, allora è chiaro che non vorremmo che l'ultimo titolo della rosa fosse beffa ancora, ancora beffa. A proposito, un caro saluto e un abbraccio a Salema Kerr, Salema Kerr se ne va, a me dispiace, altra notizia che non lo so, non mi lascia felice, il giocatore ha sempre dato tutto, all'inizio di questo calcio d'estate, nelle amichevoli, Pioli l'ha anche provato come poi inizialmente era il suo ruolo, terzino destro, insomma il ragazzo ha fatto non tantissimo, ma c'è anche bisogno di un minimo di cuore, un minimo di stabilità, un minimo, come dire, anche di riconoscimento a quello che è stato fatto negli ultimi anni, secondo me era una buona riserva. C'è un commento che ho letto questa mattina quando mi sono alzato e che mi avete mandato, è vero, Krunic, Pioli si è impuntato, diciamo così, ma per tonali no, è vero, è vero, è vero anche la differenza di prezzo, cioè da una parte quanto era 80, 70, con soldi da dare a destra e a sinistra, dall'altra parliamo di 15 milioni, però è anche vero che l'età conta, l'età di tonali è un'età giovane, puoi avere un futuro in prospettiva molto lungo e dall'altra parte hai un trentenne a 15 milioni, secondo me è un tonale così giovane a 70-80 milioni e un Krunic a 30 anni con una richiesta di 15 milioni, un'offerta di 15 milioni più o meno si equivalgono. Non lo so, mi sembra che, ecco, forse è questo, il Milan Pioli, anzi, abbia voluto demaldinizzare il Milan. A me la cosa sinceramente da molto fastidio, io lo dico francamente, mi alzo e il primo pensiero è il Milan, mi addormento e l'ultimo pensiero è il Milan. Sto male se pareggia, non vi dico se perde, non vi dico se perde contro alcune squadre, vivo con il sorriso, al di là della vita privata, che è un'altra cosa, solo quando c'è la vittoria del Milan. Io vivo per la vittoria del Milan, faccio tanti video, voglio condividerli con voi, faccio tanti sacrifici a volte per andare a San Siro, perché con il lavoro che faccio non è semplice e quindi vado a vedere qualche trasferta, però io, e quindi tifo anche Pioli e tifo la squadra in questo momento che ha messo Pioli. Però se prima io mi sgolavo per cantare Pioli's on fire, adesso, caro amico Pioli, io non lo riesco più a cantare, perché per me, al di là della cena di Viareggio che avete fatto con Maldini, al di là del fatto che noi sappiamo probabilmente poco, io nella vita ho imparato una cosa, che a chiacchiere siamo tutti bravi, io sono anche bravo a chiacchiere, ma nella vita contano i fatti e i fatti sono che o restavi con Maldini o andavi con Maldini, ora sei restato, hai fatto un braccio di ferro che secondo me hai vinto, ma il braccio di ferro adesso ce l'hai con noi, perché noi è vero che spingiamo dalla tua stessa parte, però nel momento stesso in cui le cose non dovessero andare non ti difenderemo più, come abbiamo fatto in passato. È tutto, ci sentiamo più tardi, speriamo in buone notizie anche dall'ultima partita di Serie A. Un abbraccio, ciao ciao!